Stacco tutto e me ne vado, è grosso una stampella per parte, l'altro non sa scrivere il nome, Somalo, Etiopia, e te pareva, quante possibilità c'avevo su un milione, Promiscuità, e questo a definirci nell'anticamera del reparto dove il sonno ci intuba, Staccati gli aghi ci sveglieremo tutti sani o più malati, a digiuno e niente acqua dalla mezzanotte, Mettiamo un po' di musica, così c'è passa, si infila i guanti per Salim, lui non sa scriverlo, Ma lei lo ha imparato col tu democratico degli ospedali, Scrollo le poesie del poeta operaio, dice rinchiudi un porco nel reparto, Noi aspettiamo in fila, dopo il girotondo del rispondi alle domande, allergie, farmaci, malattie importanti, Poi spostati tu da quella parte, a fissargli l'ago, senza i guanti, Siamo in quattro, guardiamo un po' in aria, un po' ci sorridiamo, Mentre Salim non ha capito che deve togliersi la giacca, Glielo mimo, pensando al cianciare brutto di ogni Facebook sui cosiddetti migranti, Categoria che vorrebbe smarcarsi, siamo fermi in questo spazio che ci contiene insieme al tempo, Che a dispetto della musica non passa, saremo fuori prima o dopo, saremo a casa, Salim forse resta, l'infermiera ha detto il nome del suo male che non ha capito lui solo, Finalmente senza giacca. Bene, grazie. Barbara, noi siamo pronti, vero? Sai come fanno quelli, o quelle ovviamente, Dicono aspettiamo qualche minuto così si collegano, no? Cioè, ma perché? Comunque, no, aspettiamo così si collegano, intanto, così, Se qualcuno, no, allora cominciamo, L'altra cosa è se qualcuno ha qualche domanda, Nelle dirette, se qualcuno ha qualche domanda, è in esordio, Alle presentazioni dei libri di poesia, se qualcuno ha qualche domanda, è alla fine, E già potremmo farci delle domande su come va il mondo. Comunque, allora, oggi siamo qui, Buongiorno a tutte e a tutti, E anche alle amiche e agli amici da casa, Salva Sandir, per presentare questo libro di Gilda Policastro, La distinzione, edito da Giulio Perrone, editore, Questo qui, bello anche, spesso, Che anche questo è un fatto. Poi, tra l'altro, apprezzavo il fatto che dicesse proprio 200 pagine, 250 grammi, Che può essere ironico, In realtà è anche, cioè, è giusto sapere cosa uno compra, no? Sì, infatti una domanda che mi è stata fatta durante una presentazione è quanto costa una poesia a questo punto. Ah, una poesia, certo. E quanto la fai, una poesia. No, però, cioè, io lo trovo simpatico, ma anche, Cioè, ha una sua correttezza, secondo me. Allora, io comincerei Dal discorso più ampio che si può fare Su un libro di poesia, ovvero, Sul fatto che Questo è, anzitutto, Un libro, questa è la mia tesi. Cioè, non basta, questa è un'ovvietà, Stampare delle parole su delle pagine Per fare sì Che quello che, Che l'oggetto sia un libro. E qui non mi sto riferendo al fatto che L'editoria ha pagamento contro l'editoria non ha pagamento. Sarebbe troppo ingenuo dire questo. Mi sto riferendo al fatto che Possono esserci libri di Cosiddetta editoria a pagamento Che sono libri E libri di Editoria cosiddetta non ha pagamento Che non sono libri. Allora, perché per me questo è un libro? Allora, io comincerai dal discorso Della costruzione Come le chiami tu? Sezioni? Blocchi? Sezioni? Va bene? Delle sezioni. Allora, le sezioni sono Ve le leggo, ve le numero Antefatto, sala d'attesa, dispositivi Gite ospedaliere, intermezzo, bravure, inattualissime Libri, tra parentesi anche poesie Histoire d'Ache E appendice Allora A questa cosa io ci sono arrivato Dopo averlo letto due volte Ho detto, vabbè, adesso mi metto un attimo giù e Mi segno tutte le sezioni Cioè il montaggio delle sezioni E la caratteristica Oltre che, vabbè, ho riscontrato Come dire, delle simmetrie Proprio di costruzione Del tipo dei testi Sia dal punto di vista dei contenuti Ma anche dal punto di vista formale Rispetto, poniamo, all'asse centrale Che può essere l'intermezzo La cosa che mi ha colpito È stata proprio il fatto che L'architettura di questo libro Diciamo di questo montaggio Sia particolarmente invisibile E questa cosa mi ha fatto riflettere Sul fatto che funziona Questa cosa Tanto più è invisibile E adesso chiudo la riflessione E poi ti chiedo la cosa E mi ha fatto riflettere anche su un'altra cosa Che siccome questo libro Parla di variamente malattia Ok? E quindi, sì Questo tema è un tema Come dire, che potrebbe prestarsi Volendo anche a quella macro categoria Che sono gli instant book O comunque i libri che parlano di qualcosa Che è prossimo a chi scrive Ma anche che è prossimo a chi legge Per esperienza diretta O di parenti, eccetera Quell'invisibilità strutturale Strutturale che io riscontro E che funziona tantissimo Io l'ho riscontrata anche Nella costruzione, gestione e soluzione Dei testi Cioè, non ho mai percepito Ho letto questo articolo Adesso vi scrivo una poesia Ok? Come se fosse qualcosa In cui la scrittura Di qualcosa che riguarda Diciamo il circostante Debba sottendere a un rapporto di causa-effetto Ecco E infatti in questo libro Ci sono poesie Anche del 2011, del 2010 Ma una, per la verità Ma che funziona tantissimo E che appunto è in antefatto Tanto per confermare questa coscienza Di architettura Quindi ecco La prima domanda Che ti vorrei fare è questa Il rapporto Con la finzione letteraria Cioè Quanto per te è determinante Poi permetterci quella che è La verità Non so se mi sono spiegato Cioè Il senso di verità Che percepisce chi legge Di quanta finzione necessita Affinché sia Funzioni Ecco Più che di funzione E di finzione Anzi Parlerei di forma L'aspetto essenziale Per me Nella costruzione di un libro È proprio la messa in forma Di un vissuto Che naturalmente Che naturalmente si riferisce a una dimensione autobiografica Ma che più che mai in questo libro Ma già nei romanzi Negli ultimi in particolare Si consegna A una Pratica A una tecnica Che si è diffusa In ambito anglosassone E che ho mutuato Da un certo tipo di esperienza Dell'area sperimentale E di ricerca Che è il cosiddetto Isdropping Isdropping È la pratica Di ascoltare Le frasi Pronunciate In situazioni Di vita Associata Quindi Ai tavolini Di un bar In autobus Sui mezzi pubblici Adesso Siamo sempre meno Assediati Dalle voci degli altri Perché tendiamo A isolarci Con le cuffiette Ma c'è stato Un periodo Della mia vita In cui questa pratica Era diventata Quasi un'ossessione Tra l'altro Quando ho pubblicato Per la prima volta Le inattuali Anzi a seguire Ho pubblicato Le nuove inattuali In un libro Che tu hai generosamente Pubblicato Nella collana Della casa editrice E Proof Rock Spa Ecco In quel momento Io avevo Appunto Questa Necessità Di Repertoriare E di Radunare Queste Voci Isolandole Proprio Dalle Situazioni Da cui le avevo tratte Quindi nel libro Che avevamo fatto insieme C'erano questi Pseudoaforismi Che si stagliavano Sulla pagina bianca Un po' come Gli epigrammi Di Elio Pagliarani A cui guardavo Come precedente E appunto Costruivano Una sorta di Ricostruivano Una sorta di dimensione Della chiacchiera Del parlato Dando conto Appunto Al tempo stesso Di una bruciante Attualità Perché spesso Queste frasi Hanno degli elementi Strettamente Contemporanei Si riferiscono Agli strumenti Che adoperiamo Ai canali social Di cui ci serviamo Sempre di più E al tempo stesso Sono destinate A diventare rapidamente Inattuali Proprio per questa ragione Per la stretta Aderenza Al contemporaneo Tutto questo Mi serviva Per ricollocare L'esperienza autobiografica In una dimensione Che fosse Per l'appunto Il più possibile Condivisa Ecco Hai fatto bene A ricordare Che c'è Un filone Soprattutto Della narrativa Del romanzo contemporaneo Che percorre La narrazione Di vicende autobiografiche Molto dolorose Con il pretesto Della condivisione Io mi consegno Mi eviscero Proprio Mi consegno Con tutta la mia In tutta la mia nudità Esistenziale A chi mi legge Perché voglio Condividere la mia esperienza Pretendendo Uno Che l'esperienza Sia esemplare E due Che appunto Possa essere Partecipata Condivisa E possa essere Utile Possa salvare C'è questa Prospettiva Di salvezza Di risarcimento Di redenzione Ecco Tutto questo Lo volevo evitare Come lo si evita La condivisione vera E proprio la riconsegna Ai parlanti Delle loro voci Delle loro Di queste frasi Che io appunto Capto Registro Annoto Scrivo Appunto Magari sul telefono E poi riproduco La prima volta La primissima volta La prima epifania sonora Che mi sono ritrovata A registrare E poi diventato Ahimè Il mio verso Più Più noto E più citato Che non è mio Naturalmente Ed era Tratto da una conversazione Al tavolino Di un bar E questa conversazione Iniziava con Questa frase La verità È che i quattro salti In padella Non so cattivi Ecco Questa frase Ha bucato Diciamo Il muro Che tende A separarmi Dal mondo Circostante Sono Diciamo Non particolarmente Incline Alla socialità Quindi le voci Degli altri Spesso sono Una forma Di assedio Di intrusione Di invasione Ecco Questa frase Ha bucato Questo muro Io di solito Se sono al tavolino Di un bar Sto leggendo E ha bucato Appunto La soglia Il muro Dell'attenzione E mi ha colpito Per la sua banalità Ecco Le inattuali Sono appunto Spesso Delle frasi Molto banali Che però Hanno un elemento Di straniamento Un elemento Che stride In realtà I quattro salti In padella Sono l'epitome Del cibo cattivo E scadente Quindi dire Non so cattivi Era un elemento Straniante Quella frase Però dava vita A un testo Molto lungo Perché in principio Attorno a questi Pseudoaforismi Costruivo discorso E appunto Poesia Mettevo in forma Certe istanze Certe urgenze Del contemporaneo In testi molto lunghi Nel testo Che tu hai pubblicato Appunto Si trattava invece Di frasi isolate Nella distinzione Per la prima volta Il sistema Del leaves dropping Diventa appunto Forma Della narrazione Del dolore Perché Ho cominciato Leggendo Senza Diciamo Una soglia Senza un momento Di annuncio Di presentazione Ecco a voi Il poeta Perché Quella poesia In particolare Che ho letto Nasce In una situazione Ospedaliera Come molte altre Del libro E in ospedale Ci si trova per caso Nessuno Come dire Va a fare una gita In ospedale Anche se poi Un testo si intitola Proprio Gite ospedaliere Antifrasticamente Ci si ritrova In ospedale Ci si ritrova In un luogo democratico In cui le voci che ci raggiungono Sono voci di persone Che appartengono A nazioni diverse A mondi diversi A cultura Hanno una cultura Un modo di stare al mondo Diverso da noi E L'esperienza In quel caso La condividiamo In modo coatto Non lo scegliamo Ho provato A raccontare L'ospedale Attraverso Le voci Le voci Che ho ascoltato Le voci Che ho memorizzato Le voci Che mi hanno Infastidita Le voci Che mi hanno tolto Il sonno I suoni Ci sono molti suoni In questo libro La registrazione Dei rumori Dei macchinari Il fastidio Che producono Tutto questo Per ridare Al tema della malattia Che poi è il mio tema Privilegiato Il tema che attraversa Tutta la mia opera Appunto Una dimensione Davvero Condivisibile Partecipabile Poi certo Era un esperimento Un tentativo Non sta a me Dire se ci sia riuscita O no Però l'intenzione Era sicuramente quella Quindi forma E non esattamente Finzione Il contenuto Di verità Diventa appunto Forma del contenuto E costruzione Di un progetto Che si allontani Dall'aspetto ricattatorio Vi racconto una storia triste Condivido con voi Le mie sfighe Ma trova invece Una forma Un linguaggio Che sia davvero Esperienza comune E condivisa Sì E allora A proposito di forma A proposito di forma Evidentemente Sanguinetti Ma La forma è C'è questa poesia Che si intitola Virgolettata Perché mi accorgo Che morire adesso Non mi serve Evidentemente È una citazione Di Postkarten Però quello che volevo dire È questo Che comincia Mi accorgo Che ho sperato Di rinascere E che la forma Giusta Invece Per me Questo testo In questo punto Che è proprio Sala d'attesa Per come l'ho interpretata Io questa cosa È come dire Ok C'è un attraversamento Da fare Che è il libro In questo caso Attraverso le esperienze Che ogni persona Può trovare dentro Ed è proprio Quello che dicevi tu Cioè il fatto Per come l'ho vissuto io Il fatto che Creare una Una cornice ambientale Che prevede Non soltanto I sentimenti Una parola molto generica Ma anche Le voci A maggior ragione Le voci Che danno fastidio E quindi Che sono particolarmente Memorabili E I suoni D'ambiente E quindi Sia come If dropping Ma anche come Appunto I suoni Che si sentono E si percepiscono I rumori Ecco Questa cosa Secondo me È proprio Cioè Io non voglio Che sembri Che questo è un libro Che si legge Tutto ad un fiato Perché Dio ce ne scampi Cioè davvero Però La cosa che io ritengo Sia determinante Per un libro di questo tipo Che ha una densità Tale per cui Io in alcuni momenti Mi sono dovuto fermare E non sono una persona delicata Come lettore Cioè Ho letto la qualunque In tutti i sensi Quindi Però mi sono dovuto fermare Perché veramente Mi colpiva Cioè E nel leggerlo Io avevo dei momenti Di Turbamento E dei momenti Di Non mi ne vergogno Anzi Di fortissima invidia Per quello Che eri riuscita a fare Che io Non ritengo di essere in grado Per esempio Quindi Però al tempo stesso Questo libro Non è respingente In nessun modo Cioè Né stilisticamente Né appunto come Creazione di Di quella prossemica Tra chi scrive E chi legge Tale per cui Adesso salgo in cattedra E vi faccio vedere Anche addirittura Paradossalmente Nella sezione Che si chiama Bravure Che è una sezione Di Cinque testi Senza punteggiatura E adesso ti faccio infatti La domanda Te l'avrei fatta dopo Ma Ci siamo arrivati Allora Che Che mi sembra Di capire Ognuno di questi testi Rimandi a uno Dei cinque sensi Sì In particolare A me ha colpito molto La La Vista con camera Tra parentesi Perché Perché Secondo me Poi non so Se tu hai piacere Di leggerlo Anche magari io E allora Che poi dopo Ti dico cosa Cosa penso Per chiedertelo Sono belle le case Di chi non le abita Case di lusso Comfort Tre piani Mentre sono a Parigi Londra Berlino New York Pershooting Turismo Matrimonio di figlia O nipote Business class Tuguri Stamberg E magazzini Quelle dei carcerati Della vita intima Le macchie di risulta Le blatte Delle cinque di mattina L'ora in cui ti alzi Se non sei morto Di angina Il minuto prima Una volta Sono andata a cena A Madrid E sono tornata L'indomani Ma dove Nell'oft Anni 60 Tanta bella Bella quella lampada Mansardato Soppalcato Nell'economia Degli spazi Poco funzionali Diceva Dalla sua specola Meccanica Ingegneria Fuoricorso a Napoli Appartamento in sette Bagno unico La pizza più scarola Scaldata da impegno Settimanale di madre Col pullman Il pacco da giù Pagare e salire Riportare le vaschette Riciclabili I piatti Celebrities Sono tutti diversi Dai viaggi indonesiani Taiwan Mano, Man, Dubai Poi tornano E li aspettano Matilda e Mimma I cani col profilo Instagram Se sono case piccole E perché vivono A Londra per studio Le figlie d'arte Ma quando tornano Per le vacanze Hanno il terrazzo Skyview Non posso nemmeno fumare Diceva Tre stanze 50 metri quadri Vista tangenziale Polveri sottili Bronchite trimestrale A casa Un mese e due A riprendersi La casa delle blatte Mentre Skyview No Non hanno i problemi respiratori Le nostre vacanze di Natale La sua bravura Nel catturare attimi di Maldive Con tutti i mezzi tecnologici Vita semplice Come raccomanda Francesco Il Papa A Elisabetta Canalis Dai tetti Wellness and Fitness O Francesco Figlio del padre Pu E padre da dive diverse In queste case Con i muri di cinta Le rampicanti Si rotolano sul pavimento acquario I bambini di tutte le madri E via subito Nuovi attimi e lei L'aeroporto come pianerottolo A noi la polvere sui tubi Gli scarichi a prova di acido Il Natale è una festa di tradizione Con cento invitati E dove il cibo soverchia C'è la dieta vegana Nelle case Tugurio L'occasionale transito dei corpi Smentisce l'abituale franchezza del grigio La casa di chi te l'ha fatta E di sicuro meglio della tua Lo spumantino Nap time And fake husband In Mars Harbor Bahamas Le stories imparziali I commenti proletari Tre del pomeriggio Wall Corizzonte Colors Hashtag Le pareti interne a schermare La riabilitazione del pianto Su cui confronta Deleuze Abecedario Non è come credi La provenienza del nome Resta ignota Qui è la casa Ciò che è in luce Ciò che è in ombra Passaggio di nuvole Da una porta Ufficio Cinemaletto Ufficio Cinemaletto Uff Tuttavia mai avrei osato Ringraziarti Non fosse stato per le piastrelle Credevo di essere l'unico ad averle Ma era bella Bella davvero Compiutamente realizzata Progetto approvato Sottoposto a condono Senza visto Fuori legge Piano rialzato Lo stesso muro Dove appoggiare la fronte A disperarsi Soffitta Cucino Divano Balcone Vista like Zero Forse è meglio prenotare un B&B Ecco Esatto Ecco Allora La domanda che vorrei farti è questa In un'altra poesia Tu parli Legato all'ambito letterario O della Diciamo Carriera letteraria Di autoposizionamento Rispetto alla percezione Che ha un autrice Un autore Della propria scrittura All'interno di un contesto Di letteratura Sociologia della letteratura Eccetera Ma mappe Come va di modo E E questo è Diciamo L'ambito L'ambito letterario E poi c'è tutta la parte invece Della malattia E c'è la sezione dispositivi In cui tu parli appunto di Googleare una malattia A avere a che fare con i bot E poi tornando Cioè andando Proseguendo Tu parli di Quelli che possono essere appunto Queste persone O anche Quelli che scrivono E Come si chiamano Quei claim Blurb Blurb Per Per autopromuovere Che sono i tiktokers Anche no? Ok Allora Mettendo Cercando Se si può Senza che la cosa Sempre troppo forzata Di mettere insieme Come in quel saggio di Bolagno Letteratura e malattia E E questa idea Di autoposizionamento Posto anche che Tante volte E non lo dico io La malattia è una costruzione Culturale Quali sono Secondo te Le linee di continuità Tra l'una e l'altra cosa? Ecco Questa era La mia curiosità La mia domanda Siccome ritengo Che queste sono Le due Direttrici forti Di questo libro L'autoposizionamento Come dimensione Autoriale Talvolta Soltanto Autopercepita E La malattia Come realtà Ma anche come costruzione Della malattia Secondo te ci sono Delle linee di continuità Tra queste due cose O sono due linee Che vanno in parallelo Nel libro? Eh sì È una domanda interessante Perché il libro È proprio un tentativo Di far coesistere Queste Queste anime Che sono Appunto Fanno parte Del mio percorso Di scrittura Riguardo all'autoposizionamento Io effettivamente Faccio fatica A identificarmi Sia con l'area Propriamente lirica E quindi con I poeti Che esprimono La soggettività In modo diretto E senza filtri Anche se Nei miei esordi Sono stata percepita Come Una voce Confessional Semplicemente Per via del tema Della malattia Che riguardava O meglio Del trauma Del lutto Però il mio sforzo È stato da subito Quello di trovare Un linguaggio Del trauma E mi fa piacere Che questo sia stato Riconosciuto Da chi ha avuto Appunto La bontà Di leggere E interpretare I miei testi Ecco Faccio fatica Anche a identificarmi O meglio Faccio fatica A essere riconosciuta Dall'area di ricerca Come una Una poetessa Propriamente sperimentale Sempre per via Della Così Dei temi Dei contenuti Della scrittura Però i contenuti Hanno per l'appunto Una forma E quindi queste Due anime Coesistono Coesiste Una declinazione Delle tematiche Che apparterebbe Di diritto Più alla prosa Appunto Alla narrazione Estesa Che alla poesia Però effettivamente C'è anche un po' di prosa C'è molta prosa Nella mia poesia C'è Lo dico sempre Molta lirica Nei miei romanzi Quindi È tutto molto mescolato È tutto molto fluido Come oggi siamo a dire Perché non credo Quando mi chiedono Ma tu ti senti più critica Più poetessa Più romanziera Mi sembra Proprio una domanda demenziale Perché ogni appunto Ogni momento Ogni contenuto Trova una propria forma Trova una propria forma E non ha neanche senso Interrogarsi Sulle separazioni Sugli ambiti Differenziati Ci ho detto È interessante Quello che tu chiedi Perché Il libro è proprio La risposta La risposta a questa tua domanda Come far coesistere Un'istanza molto personale Autobiografica Un vissuto doloroso Che si percepisce Dai temi E dai contenuti È la ricerca Di una forma Che non sia appunto Ricattatoria Che non sia Non faciliti L'identificazione Sic et simpliciter Ovvero C'è un personaggio Ha un nome Ci sono appunto Delle storie Delle trame Che aiutano poi A identificarsi O a distanziarsi Ma comunque Che offrono Una prospettiva D'uscita Ecco Dall'ospedale Non si esce Io sono convinta Di questo Dall'ospedale Come luogo totemico Del dolore L'ospedale Come dispositivo Narrativo Voltianamente Quindi Effettivamente Mi sono appropriata Di questo tema E ne ho fatto Il luogo Il luogo In cui si incontrano Le vite Si incontrano Le voci Mi è capitato Di dire In un'altra presentazione Che È stata illusita Illuminante per me Una frase Che mi disse Un giorno Mio fratello Tu non la conosci La vita vera Non conosci Le persone reali Perché non hai fatto Il militare Effettivamente Non ho fatto Il militare Quindi non conosco Le persone Se non Le persone Del mio ambito Non mi rapporto Diciamo Quotidianamente Con persone Che non appartengono Alla dimensione Intellettuale Questo è effettivamente Un limite Il luogo Il mio militare È stato l'ospedale Quindi un luogo In cui forzatamente Mi sono trovata A contatto Con lingue Che non parlavo Con esperienze Che non avrei voluto Condividere Cioè nel libro Tutta la Diciamo La parte relativa Ai depressi La cosiddetta Suite depressiva Che è appunto Un retaggio Di quell'esperienza E non sono solo Esperienze Di vita vissuta In senso proprio Anche esperienze Di lettura Ci sono molte citazioni Non solo Da Sanguinetti Quella che tu hai Ben colto C'è Sarah Kane C'è David Foster Wallace Ci sono I grandi autori Che si sono Confrontati Con il tema Della malattia In senso In senso tragico Mi ha colpito Che qualche giorno fa Un lettore Di questo libro Vi abbia scritto Su Instagram In forma privata Ma che ti hanno fatto I depressi Perché ce l'hai Con i depressi Credi davvero Che i depressi Siano tossici È stata una domanda Che mi ha fatto davvero Mi ha creato davvero Una serie di problemi Su come effettivamente La ricezione Sia ormai orientata In questo senso Della immedesimazione Quindi Non ci sono più Le virgolette Il libro è pieno Di virgolette ideali Si deve immaginare Che questi testi Siano Tra virgolette Che la caricatura Del depresso Sia in realtà Una caricatura Dolorosa Profondamente Tutt'altro che cinica È una messa Appunto anche in questo caso È una messa in forma Di una questione Che attraversa Ha attraversato Variamente le vite Direttamente o indirettamente Le vite di tutti Come si può pensare Che quei testi Siano Come dire Un moto di Esprimano Un moto di fastidio Della voce Che si esprime Nei confronti Di un soggetto particolare Sarebbe Oltre che Politicamente scorretto Sarebbe Proprio Del tutto fuori luogo Quindi mi ha colpito Però che ci possa essere Questo tipo di fraintendimento Questo tipo di equivoco Rispetto a forme di ironia Che sono Molto trasparenti Il cui Intento A me Autore Sembra molto trasparente Quindi forse Serve anche Un approccio diverso Alla lettura Una condivisione In un senso Che non sia Per l'appunto Empatico Emotivo Ma anche intellettuale Attraversare il testo Con la consapevolezza E gli strumenti Che vengono messi in campo Che poi Non è un testo Come tu dicevi Che allontana Credo D'altro Cioè Beh Questa è la mia Ovviamente Lettura personale Ma Insomma Con una certa Onestà intellettuale Quindi Se dico che non è respingente Credo con Buona ragione Di dire che Non lo è E Benissimo Intanto Come quando dicono Il numero di telefono Da chiamare Così tanto Si sta creando Una situazione Voi da casa Chiaramente Non potete saperlo Però Se avete un attimo Di pazienza Vedrete Sentirete Forse no In realtà Perché Le persone Non sono microfonate E quindi Questa è una lezione Per tutte le persone Che sono a casa Che salutiamo di nuovo Ma che dovevano essere qui Passava Gioco forza E E quindi No Ecco Quindi Si Ma anche perché Voglio dire Se no Entriamo sempre In una logica Tale per cui Una persona Ha il diritto Di Leggere qualcosa Solo se Ha passato L'esperienza Di cui si parla Nel libro Che è qualcosa Di Insomma Francamente Anche Allora Forse È l'unica Che si sentirà A proposito Di politicamente Corretto Vedo che Julian Questa Vendetta Di Julian Ha radici Profondissime Metteva Good vibes Nelle cose Che poi I froci Sono come Le ragazze Tra di loro Si odiano Ho avuto Molte ragazze Perché Sono simpatico Per il mio Aspetto Cerco Una donna Che Sinto Di Vivere In L'idea Ma Dove Sinto Che Sinto Che Vengavo Qua Questa L'idea Che Che Mi Andavo Povero In A Vosce Penso All'infante Con Mia Sorella E Alle Guerre Nel Sinto 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 Grazie. Esatto, ve lo scriviamo, diceva una signora, una presente, che se siamo buoni ve lo scriviamo nei commenti e poi questa signora ha aggiunto ma noi non siamo buoni. No, non è vero, è buona, ha detto, però ho detto io che non li, non so, li aggiungi, non lo so, però perché il bello è in realtà, cioè per esempio il signor, buongiorno signore, quando lei diceva quella cosa dell'MMA, mi ha fatto volare, cioè perché la immaginavo proprio detta da lei questa cosa, cioè capisce, e questo è il bello, cioè di decontestualizzare secondo me. Anche la signora che ha letto la frase relativa alla storia perché c'è questo equivoco per cui uno dice storia e si pensa alla storia con la S maiuscola e invece la storia di Instagram. La signora l'ha letta perfettamente con l'intenzione con cui queste frasi appunto che non vi appartengono ma vi appartengono, che vi ho affidato, vi ho riaffidato, sono le voci che io restituisco ai parlanti. Non andrebbe spiegata questa modalità, però lo faccio per ringraziarvi più che altro di aver collaborato a questo momento collettivo di restituzione della chiacchiera che poi appunto, come diceva Blanchot, è il si dice. E il si dice è l'impersonalità della parola, è la parola che appartiene a tutti e anche i cliché hanno appunto una funzione di riprodurre il sapere comune, il sapere che appartiene a tutti. Un modo per uscire dall'io, mi rifaccio sempre in questo alla domanda che si poneva Antonella Nedda in un libro molto bello intitolato La vita dei dettagli, come abbiamo potuto dire io. effettivamente è una domanda che oggi brucia perché che senso ha raccontare un'esperienza, ce ne siamo accorti ad esempio durante la pandemia, era difficilissimo scrivere della pandemia perché era un'esperienza che effettivamente stavamo condividendo ed era proprio difficile dire io perché avevamo poi chi più chi meno lo stesso orizzonte distopico che si era improvvisamente materializzato e fatto presente. Quindi ecco come abbiamo potuto dire io per evitare di incappare di nuovo nell'aborrito io il pidocchio gaddiano, grazie della vostra partecipazione. Infatti ti volevo chiedere una cosa legata proprio a queste inattualissime ma a tutte le inattuali che nei diversi libri con i diversi sviluppi che hai descritto prima, no? Poi sta introducendo. Fermo restando che chiaramente c'è il filtro, sei sempre tu che decidi cosa entra e cosa non entra ma questo è ovvio ed è inevitabile anche quando si va in panificio e si decide di dire al panettiere una cosa oppure un'altra. Quindi non è una cosa letteraria in senso stretto. Però ti volevo chiedere questo. Negli anni, cioè l'ascolto, tu hai percepito dei cambiamenti, parlo a livello medio, delle esternazioni delle persone? Cioè nel senso, ti faccio un esempio perché almeno si capisce cosa intendo. Cioè tu hai percepito che nel tempo i commenti medi siano esempio più o meno volgari, più o meno sgrammaticati? Cioè la domanda che mi sono fatto io è, esiste anche in questa cosa una curva stilistica oppure è comunque una macedonia e quello che si pesca si pesca e quindi non c'è incidenza statistica? Sì, più che macedonia parlerei di mosaico se vogliamo convocare le autorità tes massime da Adorno fino a Nanni Balestrini. Quindi la vita come collage, come pezzi, le vite degli altri. Prima parlavo delle esperienze condivise. Le vite degli altri non le conosciamo dall'inizio alla fine. Di solito quando incontriamo qualcuno ci racconta un pezzo di vita, un pezzo di esperienza. E anche queste frasi raccontano delle vite. Io poi ovviamente sono perfettamente in grado di ricordare le situazioni e le circostanze da cui le ho tratte. Ecco, più che trarre una considerazione che virerebbe verso il sociologico su come sono cambiate le parole, il lessico o i costumi verbali degli italiani, per paraprasare Leopardi, direi che è cambiato il luogo in cui ci esprimiamo. Quindi sempre di più le inattuali sequela dell'oculo. Mio nonno a 18 anni mi ha regalato un loculo, al sud lo fanno, è lì con la mia data di nascita. È una frase che effettivamente ho sentito. Altre frasi le prendo da Facebook. Le guerre del Peloponneso, a volte penso all'infanzia, alle guerre del Peloponneso, è un post di Facebook. Ho anche Montezuma, è morto il mio amico Montezuma. Sembra incredibile, ma era un mio contatto Facebook che scriveva sono 500 anni che è morto il mio amico Montezuma. Quindi sono cambiati i luoghi, i luoghi da cui le trago, sono sempre di più i social, perché sono sempre di più i luoghi che frequentiamo. Io all'inizio dicevo, all'inizio della mia frequentazione dei social, dicevo che i social sono uno strumento, non sono un luogo. Mi rendo conto che sono sempre di più un luogo. Sono davvero dei sostituti di realtà. L'abbiamo detto all'inizio, chi ci segue da casa in questo momento sta vivendo un'esperienza reale. Poi magari non c'è nessuno, quindi stiamo evocando dei fantasmi. Aspettiamo qualche minuto che si colleghino. Sì, quindi credo che sia questo il senso. Riaggregare esperienze e farlo nella modalità più vicina alla vita, che è questa fruizione randomica e parcellizzata e frammentata delle esperienze. Non conosciamo, appunto, non raccontiamo la nostra vita. Se ti incontro, adesso ci vediamo dopo non so quanti anni. Se prenderemo un caffè dopo la presentazione, non ti racconterò tutti gli anni che ti sei perso nei dettagli. In questi minuti farò degli highlights e così le frasi del parlato comune. Sarebbe assurdo repertoriare il parlato e il discorso comune. Ma a che cosa serve tutto questo? Serve intanto a uscire dall'io e dal proprio centrismo e da una dimensione egoriferita che è poi il portato di un'attenzione maniacale alla vita. Quanto più la si osserva, tanto più si diventa poi mitomani, perché ci si sente osservatori privilegiati, perché si percorrono dei temi. Vengo da una presentazione dell'opera di Vitaliano Trevisan che si è tenuta ieri sera e pensavo proprio al valore di questo autore, che è quello di farsi continuamente una domanda di senso. Il valore delle opere di Trevisan, secondo me, non sta tanto nella scrittura della singola pagina, magari se si legge una pagina o poche righe, non si ha un'idea vera di quale sia la forza espressiva di questo autore, che è continuare a farsi la stessa domanda, la stessa domanda di senso, ripetuta, ossessiva, ossessionante. Un altro autore a cui mi sono avvicinata di recente, Ottiero Ottieri, nel Pensiero Perverso, mette in forma l'ossessività del pensiero sulla morte, dell'impossibilità di uscire da questa dimensione in cui ci interroghiamo sullo stare al mondo come finitudine e come esperienza continua di dolore. Ecco, tutto questo sembra triste, deprimente e appunto respingente, però perché non lo è? Perché a un certo punto qualcuno mi ha detto, però tu fai anche ridere, è vero che parli sempre di sfighe, di sciagure, ma fai anche ridere. E mi sono resa conto che questa tonalità, questa possibilità non di far ridere a crepapelle, diciamo così, risate a denti stretti, si diceva una volta sulla settimana enigmistica, questa modalità forse effettivamente mi appartiene. Cioè, un po' il grottesco, la coesistenza del tragico e del comico nella stessa scena, c'è una parte che descrive una scena d'ospedale, quelle che io chiamo le terminali, che sono appunto queste donne che dopo una lunga degenza danno dei segni evidenti di squilibrio. Ecco, c'è una scena di defecazione di una di queste terminali che è sia comica che tragica, quindi il grottesco come cifra mi sembra renda bene questa dimensione ospedaliera. Ma c'è anche un riso forse più dolente, più leopardiano, che nasce proprio dalla terribilità dell'esperienza di vicinanza alla morte, perché poi di fatto questo è l'ospedale, un luogo in cui ci si avvicina alla morte, all'idea di morte e di imminenza della morte. Quindi questo riso è consapevolezza della finitudine, ma è anche appunto, anche questa è una forma di condivisione dolente, di un momento che può in un attimo trasformarsi nel suo contrario. La scena più tragica può diventare comicissima, a partire dal fatto che sia, insomma è un mio topos dal primo romanzo, dal farmaco che in ospedale si sta in pigiama, questa cosa mi sembra raccapricciante, rinunciare ai vestiti, all'identità, e infatti mi ricordo che mio padre usava mettere comunque la cravatta, il pigiama e la cravatta, perché appunto ci si spersonalizza e si diventa un tu, gli infermieri ti danno del tu, succede questo, che si sta in pigiama, si sta stesi tutto il tempo, quindi si entra in un'altra dimensione, su cui Mann per esempio nella Montagna Incantata ha detto cose molto più profonde di quelle che sto dicendo io adesso, però questa dimensione degli stesi e questo pigiama sono appunto comici, grotteschi, sono tragici, in pigiama perché si è malati, ma sono anche comici perché a guardarsi così con occhi straniati si è obiettivamente comici e qualche volta ridicoli. un pezzettino sui depressi. Sì, che è il momento. Poi io direi così, se tu sei d'accordo, se le presenti sono d'accordo, se qualcuno ha qualche domanda, come si dice, intanto ve la preparate, mentre Gilda legge, altrimenti io ho una domanda che può essere importante, ma non necessaria, a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, sì, e quindi è necessaria e sufficiente la domanda che farò. Insomma, adesso ascoltate, è importante. Ogni tanto mi telefona un depresso e mi chiede se per caso posso trovargli un lavoro, anche se non è tanto sicuro di voler lavorare, che poi perde la pensione. Comunque io che lavoro ti posso trovare? Mi dispiace, non me ne vengono in mente, fammici pensare, richiamami. Domani? Eh, domani non lo so, non so se stanotte mi vengono in mente dei lavori, fammici pensare qualche giorno. Sabato? Ti chiamo Sabato? Io poi quel sabato non rispondo perché ci voglio pensare ancora o forse perché non ci voglio pensare più a che lavoro posso trovargli io, che un lavoro non ce l'ho mai avuto in vita mia e nemmeno l'ho voluto cercare, a uno che pure lui non è tanto sicuro di voler lavorare. finisce che mi richiama quell'altro sabato ancora, si sarà detto avrò capito male, era questo sabato qua che dovevo chiamare, questa non me lo trova più sto lavoro, oddio. Una sera che non gli rispondevo si è buttato nel fiume o almeno così ha detto perché poi sti depressi sono tutti così che ti devono colpevolizzare. Ma come nel fiume? Ma che... E niente, non sapevo cosa fare. Ma hai chiamato qualcuno? Sì, ho chiamato il 118. Ah, ma allora non volevi proprio? Sì che volevo, ma visto che non c'ero riuscito, cosa stavo a fare lì nel fiume mezzo morto? E ti hanno soccorso? Ti sei... Ah, ok. Mi sembra, insomma, che ben racchiuda quella doppia chiave di... Nel senso, nella mia vita direttamente e indirettamente ho avuto a che fare con momenti legati a situazioni diciamo depressive ma non è che questo mi fa pensare che posso, ovvero non posso riderne. Cioè, insomma, se no la gente non andrebbe a messa. Cioè, quasi nessuno ha vissuto quello che vive Gesù. Cioè, nel senso, credo, cioè, non lo so, ma lo dico in maniera... Eh, sì, ma anche, cioè, il credente non è che si è fatto crocificio, nel senso, però ci vanno, è giusto, no? È bello anche, cioè, io trovo sia bello. Quindi, quindi, ecco. Allora, io volevo chiederti questo. Prima tu parlavi di strumenti e di luoghi rispetto a Facebook. Allora, c'è tutta una sezione che si chiama dispositivi e sono dispositivi di vario ordine per la verità perché c'è il dispositivo del cut-up che è un dispositivo letterario, insomma, di scrittura e c'è poi invece il dispositivo dello Swift Key che è quella come si dice, quando completa in automatico scrittura automatica e poi c'è un altro strumento GPT-3 che è quella dell'intelligenza artificiale. Ecco, allora, scusa se ti interrompo, ci tengo a dire, visto che adesso tutti giocano con chat GPT che questo esperimento di scrittura della poesia con quello che allora era GPT-3 e adesso c'è l'evoluzione in GPT-4 è stato, credo, il primo esperimento in Italia. Non è un vanto, ma comunque grazie alla collaborazione con un informatico che mi aveva appunto segnalato abbastanza precocemente questa possibilità ho interrogato la rete neurale appunto chiedendo una poesia sull'ospedale la malattia e la morte e il testo lo trovate nel libro poi ho cambiato il prompt quindi l'indicazione per la macchina e per la macchina per la rete e ho chiesto una poesia ironica e l'esito è una poesia in inglese mi ha colpito questa cosa come se l'ironia non appartenesse non potesse appartenere alla nostra lingua e Gianluigi Simonetti nella presentazione romana del libro che è stato poi il debutto diciamo della distinzione ha osservato molto acutamente che ho dato alla macchina ancora questa macchina ho dato alla rete l'istruzione le istruzioni che ho dato a me stessa scrivendo questo libro cioè scrivi una poesia in questo caso scrivi un libro sulla morte la malattia e l'ospedale e poi ironica io poi il libro l'ho scritto in italiano a differenza di GPT3 solo che come dicevi in nota riferendo quello che diceva l'informatico dice che scrivono come un bambino di 10 di 11 anni perché per nostra fortuna per fortuna dei poeti e di chi scrive le reti neurali ancora a livello creativo sono molto indietro effettivamente le poesie sono brutte ma semplicemente perché l'addestramento è avvenuto prevalentemente su testi in prosa quindi aspettiamoci di tutto perché alcune cose l'intelligenza artificiale le fa già molto bene ad esempio le traduzioni le poesie per fortuna sono ancora imbarazzanti però già ad esempio un esperimento di racconto io avevo fatto due esperimenti paralleli scrivi una poesia di Giacomo Leopardi ed era una poesia tremenda da bambino insomma ripetente e invece un racconto di Borges gli era venuto meglio era venuto meglio quindi è interessante sì perché appunto è stato indestrato su testi in prosa sì però al tempo stesso ci si può a partire da questa cosa interrogare anche su cosa sia effettivamente risolvere un testo poetico da parte di chi lo scrive da un lato cioè cosa significa cioè io credo di intuirlo ma più ci penso meno lo capisco cosa significa quando una poesia la scrive un bambino cioè la prima volta che ho letto una poesia scritta da un bambino di undici anni ero certo di sapere cosa significava come scrive la poesia un bambino adesso più ne parlo più non saprei come scrive una poesia di un bambino di undici anni però so come le scrivono i miei coetanei ero ironico no non ero ironico e quindi il punto è questo questo superamento cioè se se l'addestratore comunque cioè un po' è questo noi vogliamo veramente addestrare chi scrive le poesie a scriverle come le scriviamo noi potrebbe essere un fallimento cioè una perdita di tempo cioè è proprio quello secondo me è il discorso cioè capire cioè una volta in più perché usiamo le poesie e non un'altra cosa per dire quelle cose lì che poi è una cosa antica questa sì per fortuna le usiamo sempre meno nelle forme tradizionali scolastiche irricevibili e purtroppo è una consapevolezza che a livello teorico a livello accademico ma anche a livello poetico è ormai diciamo acquisita no che non si possa scrivere un verso pur bellissimo come il mio cuore il paese più straziato di Ungaretti però Ungaretti lo può scrivere durante la prima guerra mondiale scriverlo oggi farebbe un po' come dire un po' attrito con la dimensione in cui viviamo quindi questo è abbastanza pacifico è abbastanza acquisito a livello teorico non lo è a livello di senso comune la poesia resta questa cosa qui resta il mio cuore il paese più straziato della poesia che scrivono i poeti amatoriali lo so dopo aver collaborato con Repubblica per due anni alla bottega della poesia la maggior parte delle poesie che ricevevo ma scritte da autori di tutte le età e di tutte le condizioni e quanto più erano che ne so scienziati tanto più le poesie parlavano di cuore amore sentimenti interiorità sei uno scienziato sei un fisico usa il tuo linguaggio i tuoi strumenti per scrivere un testo non scrivermi non parlarmi della tua percezione del tuo cuore malato perché non è interessante non è interessante non è utile non è produttivo e soprattutto non è poesia quindi a livello di senso comune bisogna secondo me lavorare tanto lavorare tanto perché qui siamo in una libreria piena di libri bellissimi però appunto poi chiederemo conferma alla libraia ma credo che chi entra in questa libreria per comprare un libro di poesia in gran parte dei casi cerchi Franco Arminio mi illudo che possa non essere così ma il mio timore che sia così ecco senza come dire voler per forza farne un obiettivo polemico fisso come il nostro amico Giulia Anzara però c'è da dire che è un autore che parte come autore di qualità di alta qualità i primi testi di Franco Arminio sono testi di ricerca anche a livello formale e poi percorre questa via di una poesia abusata del poetese come lo chiamava il nostro Sanguinetti di una poesia irricevibile oggi per linguaggio per forma per espressione per contenuti sacro e il silenzio tra le dita dei piedi ecco per me questo tipo di consapevolezza deve entrare piano piano anche nel senso comune nel discorso comune la poesia come le arti si sono evolute si accetta che l'arte contemporanea non sia più ritratti di questione di ritratti di madonna e di Gesù Bambino così si deve accettare che la poesia ha cambiato forma ha cambiato linguaggio ha accolto ma già questo è un discorso che si fa dagli anni 60 del novecento lo stesso montale accoglie nella lingua insatura nel 71 accoglie nella lingua il linguaggio giornalistico nella lingua poetica il linguaggio giornalistico ottieri ottieri accoglie nella sua lingua i nomi dei farmaci nel 71 nel pensiero perverso quindi è impensabile che oggi la poesia rimanga appunto questo recinto protetto con il linguaggio selettivo di petrarchesca scendenza è proprio fuori dal tempo e fuori dalla realtà e mi chiedo come non ci si arrivi anche il poeta amatoriale perché non ci arriva che se il giorno prima è andato a vedersi un film di Nolan poi la sera non può mettersi a casa a scrivere il praticello con i pastorelli zufolanti proprio per me è inconcepibile però ancora non è così è un discorso che fa fatica a passare si rischia di appunto di si rischiano equivoce fra intendimenti arriverà poi un momento in cui forse proprio l'intelligenza artificiale ci sterminerà tutti come autori e sarà in grado di scrivere mentre noi rimarremo a scrivere poesie come undicenni e l'intelligenza artificiale volevo dire che l'intelligenza artificiale scrive come un undicenne ma non lo ma non lo sa mentre forse la ricerca della poesia piana che arriva uso tutte cose che non sono cose che mi appartengono intente che ripeto ovviamente è pensare a come scriverebbe un bambino di undici anni allora scrivo così ma di un bambino di undici anni non scriverebbe così comunque è interessante questa cosa perché se la domanda di partenza non è ma chi mi leggerà è un bambino di undici anni qual è cos'è che spinge a scrivere una poesia sul praticello erboso sui gabbiani il tramonto il mare il mare il mare la natura la natura gli alberi gli alberi gli alberi qual è il moto qual è il movimento sì il movimento interiore lo posso intuire ma non posso immaginare a quale tipo di destinazione si pensi anche perché perché io leggevo questa cosa che adesso sembra non c'entra niente oggi ne uscirò come anticlericale ma in realtà non lo sono ma leggevo questa cosa che dicevano e questo può essere anche un problema ovviamente i ragazzi si avvicinano alla pornografia online da quando hanno il primo smartphone e il primo smartphone normalmente lo regalano alla prima comunione no vabbè no ma non durante in chiesa cioè lo regalano dopo ma anche cioè non necessariamente facciamo intorno all'età in cui si fa la prima comunione e che prima di undici anni mi risulta quindi voglio dire c'è il bambino è qui la metafora però c'è il praticello cioè interessa poco già prima degli undici anni questa è una cosa che ci sta portando molto lontano anche per colpa mia però dico cioè è proprio questa cosa che c'è uno scolamento tra tra i bisogni anche proprio in termini diciamo di mercato della fruizione tra quelli che si ritengono essere i bisogni di chi c'è dall'altra parte e quelli che tu ti ritieni in dovere di fornire nel ruolo che stai rivestendo è proprio così ma io adesso non dirò più niente in generale adesso ho finito infatti io ma se qualcuno vuole dire a piacere dovrà fare col microfono per essere allora vediamo quanto arriviamo di cavo arriviamo non prima di non prima di aver letto il secondo frammento perché passo molto tempo a scegliere lo shampoo al supermercato mi riguardo tutti ormai conosco le caratteristiche di ogni marca di ogni flacone è una passione un modo per capire lettori 5 stelle novax giustizialisti telespettatori di rete 4 essendo io calvo non sono l'unico però ci tenevo a leggere a parte queste due domande velocissime parlando del dell'eavesdropping ma in fondo anche dell'ascolto in generale anche l'ascolto del lettore stesso quanto è importante curare la cura dell'attenzione quanto è importante lasciarsi cogliere distratti in questa captazione e seconda domanda chi può distinguere il la poesia dal poeta who can know the poet from the poem per lavorare un po' su Yates ma più che altro per parlare un po' del titolo di questa raccolta la distinzione tutto qua grazie grazie sì effettivamente non avevamo detto nulla sul titolo che è antifrastico naturalmente è un omaggio a Bourdieu e al sociologo francese che ha scritto un libro intitolato così proprio come riflessione sul linguaggio nel suo aspetto distintivo e nel suo aspetto politico potremmo dire il linguaggio come strumento di potere e di dominio ecco in questo caso la distinzione lavora sì sul linguaggio ma non come strumento di potere anzi come perdita del controllo su di sé e appunto come strumento di indistinzione quindi strumento che ci avvicina e non ci distingue e la prima domanda scusa me la sono persa classicamente la disattenzione è interessante anche questa la dialettica attenzione e disattenzione che Leopardi descriveva benissimo in un pensiero dello Zibaldone ovvero l'attenzione eccessiva lo sperimentiamo anche come lettori o come spettatori di un film spesso non ci permette di cogliere degli elementi che invece la distrazione momentanea ci rende evidenti quindi l'eccessiva concentrazione la dialettica che si attiva tra dentro e fuori tra voci degli altri e voce interiore il voicing famoso di cui parla Caller quindi questa triangolazione di voci tra la pagina me il lettore che legge i miei testi con la sua voce oppure se ha sentito la mia tenderà magari nel mio caso no però magari di autori più famosi penso a Milo De Angelis ecco quando leggiamo i testi di Milo De Angelis tendiamo a leggerli con la sua voce a riprodurre interiormente la sua voce però effettivamente anche questa è una domanda di chi sono le voci che fine fanno le voci dove sono una volta Giulio Mozzi mi ha chiesto ma dove sono adesso queste voci a chi appartengono è chiaro che come dicevi tu c'è un io che le ordina e occasionalmente questo io coincide con col nome scritto sulla copertina ma è appunto più una creazione di caos che di ordine vero e proprio l'ordine poi è dato dal libro ma l'aspetto randomico è un aspetto a cui tengo assolutamente perché è proprio il fulcro di tutta la la vicenda poetica di questo libro l'attraversamento randomico e casuale e quindi sì attenzione e disattenzione attenzione alla vita alla nostra vita come è normale che sia eccessivo ripiegamento soprattutto in momenti delle vite funestati dai traumi quindi i lutti le separazioni gli abbandoni lì c'è un eccessivo ripiegamento e in questa eccessiva attenzione al sé arrivano appunto questi momenti di distrazione stavolta nel senso di deviazione dall'iperconcentrazione e quindi apertura agli altri e appunto ripeto Leopardi è stato in questo rivelatore perché ho notato io stessa che quando sono molto concentrata ad esempio nella visione di un film tendo a perdermi dei particolari che poi sono essenziali alla comprensione questo prima citavo Nolan non a caso perché mi succede particolarmente nei film di Nolan che sono molto complessi proprio per la costruzione narrativa e a un certo punto io in questo eccesso di concentrazione non riesco a capire il senso abbandonarmi distrarmi togliere magari per un attimo lo sguardo allo schermo e ritornarci mi riporta effettivamente in una dimensione di senso che può aiutarmi ad avvicinarmi sembra un paradosso ma in realtà non lo è è una dialettica molto viva anche nella nella lettura nella dimensione della lettura quindi spero di averti risposto ma sono effettivamente questioni su cui ho ragionato grazie a tutti 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 Grazie. Grazie. Era del libro precedente, è stato editore del libro precedente. Quindi ecco, mi emoziono, riferirò, questo lo metto nel sentimento, non so se non ho sento, però magari riferirò di riferire qualcosa. Grazie. Grazie. Il signore deve fare una domanda. C'è una domanda? Non si sente. Grazie a lei. Chiedo scusa in anticipo, non vorrei abbassare il tono. Oltre giorno cercano ancora la rima. La rima? La rima. Ecco. Io cercavo poi della ragazza per la bambina con le mie sorelle. Alla fine della giornata è tra il centro dell'umorismo. Io ho presentato anche l'ospedale proprio con i bambini, con i bambini, con i bambini. Mi creda, quando le mamme parlavano di una dieta tra di loro, o di un panciere, io sogretiravo. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, perché ho usato oggi fare questo. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Nessuno più dice è morto, è mancato, è scomparso. Berlusconi non è morto, è scomparso. Quindi potrebbe riapparire da un momento all'altro. Stiamo attenti quando usciamo. Quando sarà la mia ora, esigo che si dica che è morto. Perché se diranno che è scomparso, non vorrei che mi arrivassero ancora bollette da pagare. Questa l'ha noto per il prossimo libro di Inattuali. Se non ci sono altre domande, chiudo con una lettura. I depressi si dividono in due categorie. Quelli che non muoiono e quelli che sono in cura perenne, che ti guardano con l'occhio dilatato dal sedativo preso anche per le cose più semplici, tipo il compleanno della figlia grande, non puoi mica mancare. E loro se ne stanno lì in fondo, dove sono radunate le bottiglie o le torte salate. L'angolo meno visitato della sala, eppure ogni tanto ci capiti e ti tocca sorridergli al padre depresso della figlia grande. Buonasera. Nessuna risposta. Gli altri devono per forza, ma lui vive in una regione a statuto speciale. Depressopoli. Welcome to. Un'altra possibilità è la gara, il campionato. Ma chi ci viene se stanno nei letti sempre? Bisogna andare casa per casa a verificare se non si alzano proprio mai mai. Se il pigiama è sempre quello per settimane, se i capelli, le occhiaie. Un talent per depressi. Monitorati H24. Il depressometro. Uno strumento di sicura efficacia per il rilevamento dei sintomi. No, niente cura. Importante è tenere il depresso bello scarico, così che lo puoi usare come alibi. Chi non ha un depresso da accudire la sera della cena aziendale? Oh, mi spiace, la badante è proprio l'ultimo. Un depresso è un investimento sicuro anche per molte inattività, non previste dallo statuto della vita degli altri. Il depresso non può curare le piante, accudire i figli, preparare il pranzo, andare in farmacia, lacciarsi le scarpe, raggiungere un obiettivo, fissarne un altro. Il suo è un buddismo all'incontrario, uno stato di preoccupazione totale, senza oggetto. Se no la risolvi facile. Ti mancano i soldi, un prestito, una moglie, vai a puttane. E niente, sei solo messo così, col pigiama, steso. Ti fa difetto alla volontà, dove gli altri spingono. Sostituisci depresso a qualunque cosa, tipo filastrocca, signor maestro, la mucca non ce l'ho. È un tema facile, puoi sbizzarrirti, scegli il depresso, vestiti da depresso, vota il depresso dell'anno, anche col televoto o dall'app. Ti piace inventare, oppure riferire in modo preciso, magari invertendo le parti. Come i bambini introversi, che ginocchi al pavimento si parlano sottovoce. Io forse non sono nemmeno qui ad ascoltare. Allora, lo dico, non è dovuto, per me è stato un piacere e un onore. Quindi grazie Gilda e grazie a tutte e a tutti presenti. Come si dice ai concerti, in fondo c'è il banchetto coi libri. E niente, buona giornata, grazie. Grazie, grazie a Luca Rizzatello, grazie alla libreria e a tutti voi.